Comincia oggi la tappa napoletana della Coppa America con due regate di flotta. Domani e dopodomani il match race che culminerà sabato 14 con la semifinale e la finale, mentre domenica la competizione si concluderà con le gare di velocità e poi un'ultima regata di flotta, infine la cerimonia di premiazione. In occasione della Coppa America sei nuovi punti di wifi libero sono stati attivati nella villa comunale. Partiti i lavori di manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi di alcune importanti strade cittadine, tra cui via Panzini, via Cardarelli e via Le Colli Aminei nella zona ospedaliera e via dei Ciliegi, compreso il sottopasso all'incrocio con via Scaglione, nella zona di Chiaiano. Progettare una città intelligente, con la tecnologia al servizio della qualità della vita e di un maggiore rispetto dell'ambiente. Il Comune di Napoli aderisce al progetto Napoli Smart City, secondo le indicazioni dell'Unione Europea, e invita cittadini e aziende a avanzare idee e proposte innovative per la città. Sessualità e diritti LGBT. Si svolgeranno il 19 e 20 aprile presso la Facoltà di Sociologia quattro seminari di alta formazione patrocinati dal Comune di Napoli sui temi della salute, della tutela giuridica, dell'omofobia e delle famiglie omogenitoriali. La partecipazione è gratuita. Domani, 12 aprile, a mezzogiorno, al Real Albergo dei Poveri, si inaugura la mostra di Gunther Von Hagen's Body Worlds, il vero mondo del corpo umano, che fino ad oggi ha avuto 34 milioni di visitatori in più di 60 città del mondo.